Vamo poi la raccolina loco! Vamo garaco! Al tavolo 4! Vala! Vambo la fina così! Aranassi loco! Vamo! Fratelli e sorelle nell'amore in diretta dal Master Stadiums di Monaco a Monte Carlo benvi gusto bentornati sul canale di Marco Forpress io sono Marco Forpress, principato di Monaco forse avrei dovuto dire e questo è il diciassettesimo incontro, il secondo di ritorno della Master League di prima divisione, campionato Master, Pro Evolution Soccer 1 per PlayStation 1 siamo a più 13 dagli inseguitrici, Valencia-Roma-La Coruna ma non perdiamo la calma, non perdiamo la concentrazione abbiamo superato un grosso scoglio domenica, oggi è mercoledì, 13 marzo turno primo dei tre turni infrasettimanali consecutivi che ci permetteranno di recuperare le giornate perse in quel di febbraio e abbiamo sconfitto il Chelsea 3-1 in trasferta, vi ricorderete sicuramente il Chelsea che ci aveva umiliato durante l'incontro di apertura di questo campionato Master che mi aveva fatto un po' disperare pensavo che sarebbe stato terribile questo campionato a livello difficile dopo che era stata una passeggiata insomma quello a livello normale e invece si sta dimostrando una passeggiata anche a livello difficile certo, ho una rosa veramente veramente forte come sapete bene il criterio è quello di acquistare giocatori che hanno giocato avrebbero giocato o avevano giocato nel Milano e quindi ecco diciamo che siamo super forti il trio d'attacco ormai rodatissimo Shevchenko, Super Pippo e Ronaldo il fenomeno e poi effettivamente come già ho detto più volte una volta che sai i binari del gioco diciamo mostra i suoi limiti PES per quanto sia veramente veramente meraviglioso mostra i suoi limiti e quindi ecco sfruttiamoli questi limiti e segniamo subito facile facile e non vedo l'ora di giocare a PES 3 vi dico la verità adesso è ancora lunga chiaramente ci sarà tutto il girone di ritorno ci sarà l'europeo quest'estate a giugno e luglio con l'Italia giugno e luglio se passo il girone in qualificazione certo e poi finalmente PES 3 non vedo l'ora ho deciso sappiamo già che giocherò con la Stonevilla cambierò i nomi aggiornerò con l'editor interno le divise ma lascerò gli stemmi farlocchi di Mamma Konami potrei mettere gli stemmi originali è un lavoro dispendioso che feci già all'epoca quando ero giovine adesso non è che ho tutta sta voglia ma non è per quello è perché comunque già cambiamo i nomi perché per quanto adesso fossero comunque bene o male simili a quelli originali quindi ricordavano un po' è simpatico anche vedere le piccole differenze non lo è più in PES 3 anzi i nomi cominciano a diventare strani brutti martes e quindi almeno quelli li mettiamo quelli originali le maglie non sono bruttissime quelle originali del gioco no dammi un pupazzo bravissimo però c'è la possibilità con l'editor interno di fare un ottimo lavoro nel ricreare quelle quelle reali dell'epoca almeno gli stemmi fasulli per mantenere comunque un briciolo un pizzico di quest'aria che si respira nel capolavoro calcistico di Mamma Konami perlomeno nelle sue interiazioni 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 incarnazioni dell'epoca ooooh Somaro non si fa ma non si fa un leone dal massimo anche quando deve catturare una lepre come diceva il maestro del portiere Maia Muller di di Capitan Tsubasa alle Benji a proposito di Capitan Tsubasa alle Benji ho iniziato a leggere e a guardare Blue Lock e mi sta piacendo mi sta piacendo molto mi sta piacendo come è scritto disegnato da Dio disegnato veramente benissimo e è importante secondo me Dio non devono essere per forza così figli poi venendo proprio da Capitan Tsubasa non è importante che siano realistici o figli disegni è importante che si capisca insomma che stiano dietro all'azione che le tavole le inquadrature le azioni quello disegnato le vignette stiano dietro all'azione e mi sta piacendo molto mi sta piacendo molto diciamo che lo sto recuperando in maniera un po' all'arrembaggio però sto prendendo anche i volumi quindi ecco solo che ne faccio i prendi i volumi e la velocità con cui con cui lo leggo all'arrembaggio quindi un po' la volta e in più lo sto guardando sto guardando l'anime su Crunchyrolls quindi anche lì legale e professionale sto approfittando di 14 giorni di prova gratuita purtroppo lo dico me sa che manterrò l'abbonamento mensile mega fan la 050 vediamo perché dopo dopo Blue Lock vorrei guardarmi anche Jujutsu Kaisen che allo stesso modo ho iniziato ho messo letto il capitolo 0 all'arrembaggio adesso sto recuperando i volumi quindi ci sta sto recuperando i volumi in maniera legale e professionale come direbbe il buono sono movute voglio vedermi però pure l'anime perché so che è fichissimo è stato super premiato e poi voglio vedermi anche Meshul voglio vedermi Leveling Solo che ne ho sentito parlare bene e poi voglio vedere e anche recuperare il manga di Meshul Magic Muscle solo che i volumi ancora no avevo iniziato a leggerlo all'arrembaggio sicuramente se mi piace mi prendo pure i volumi ovviamente intanto mi guardo l'anime non è legale professionale quindi ecco questo è un po' un aggiornamento su anime e manga proprio dell'ultima ora fresco fresco gli unici che recupero altrimenti sono One Piece all'arrembaggio e la New Edition e One Punch Man che però invece non prendo non leggo all'arrembaggio ma recupero solo in volume quindi ogni tantissimo so che deve essere andato avanti tantissimo in originale rispetto a dove sono io l'ultimo volume quello al 28 devo andare a vedere se è uscito il 29 effettivamente oggi avevo una riunione importante non potevo sottrarmi quindi non sono potuto passare dal mio fumettario di fiducia super giovane di Mega Comics a Civita Nuova Marche via e quindi niente domani però passerò senza dubbio a controllare la mia casella a vedere se sono arrivati One Piece o One Pagina perché non mi ricordo quando è l'ultima volta che ci sono passato era uscito il 101 di One Piece New Edition quindi forse il 102 non è ancora uscito è uscito il 29 di One Punch Man però ci vado lo stesso così magari mi recupero qualche altro volume di Jujutsu Kaisen e di Blue Lock che sto avanti in Blue Lock però mi piace mi piace mi piace davvero come scritto cioè a livello narrativo non tanto come non tanto come Spokon o Manga sul calcio ma proprio come narrativa perché poi in realtà Blue Lock è un Battle Royale Blue Lock è un Battle Royale quindi quello mi interessa ha la Battle Royale ha la Squid Game col fatto che sono tutti avversari ma diventano compagni pur rimanendo avversari insomma c'è chi l'ha paragonato a Hunger Games ma sono gli americani secondo me perché non puoi paragonarlo ad Hunger Games devi paragonarlo secondo me a Battle Royale sì Hunger Games oddio c'aveva lo sport virgola Hunger Games era Battle Royale fondamentalmente manga meraviglioso mamma mia che bello Battle Royale c'ha una violenza grafica veramente eccezionale che ho visto solo in Guns però non è fine a se stessa non è per niente fine a se stessa neanche in Guns credo non è anche in Guns ma c'ha una sua spiegazione c'ha una sua motivazione c'ha un motivo per cui te lo fanno vedere così crudamente crudelmente la violenza il gore lo splatter ed è è un tema Battle Royale veramente meraviglioso meraviglioso mi è piaciuto veramente veramente molto Guns Guns mi ha turbato mi ha turbato veramente molto per leggere il primo volume ci ho messo veramente tanto poi una volta partito sono andato al razzo ma Guns ti deprime cioè a me mi ha depresso Guns mamma mia mi fa venire da piange Battle Royale mi fa piangere diciamo gioia mi dà un messaggio di speranza Guns invece me la toglie tutta la speranza e quindi sono state lacrime diverse lacrime diverse Lulok diciamo mi piace molto come è scritto proprio a livello di narrazione il ritmo le scelte perché alla fine anche lì le scelte di caratterizzazione le scelte di come far evolvere la storia non ci si annoia non si ripetono mai due cose uguali anche cioè non è come Holly e Benji per esempio dove tu c'hai la mossa e la ripeti sempre perché Holly e Benji parliamoci chiaro Captain Tsuhasa è un battle manga a Spokon ok è un battle manga è come se fosse Dragon Ball su un campo di calcio che i colpi sono le mosse come One Piece come Naruto come Bleach su Kaisen eccetera Bluelock invece davvero è battle royale nel senso che c'hai l'evoluzione dei personaggi sì hanno le loro armi eccetera eccetera quello che le loro mosse le loro peculiarità però quello che mi piace tantissimo è proprio l'evoluzione l'evoluzione dei personaggi come calciatori come attaccanti come bomber e come esseri umani mi piace veramente tanto poi anche come inserisce il cast secondario come lo gestisce con i cambi di squadra mi piace mi sta piacendo molto sono arrivato nel momento in cui assistiamo a questo Milano-Monaco che al 28esimo del primo tempo è sul punteggio di 1-1 sono arrivato alla selezione dell'11 di Blue Lock che sarà titolare contro l'Under 20 giapponese ok questo non è spoiler perché viene annunciato praticamente all'inizio del mondo che succederà questa cosa non so ancora quali sono gli altri 12 che andranno a completare la rosa di 23 ancora non l'ha detto diciamo che ho visto ho avuto il primo assaggio di Under 20 del Giappone chi sa sa chi non sa non gli ha detto niente fondamentalmente uhlala ero riuscito a calciare Marquez Marquez che poi sarebbe andato al Barcellona e con l'anime invece sto indietrissimo chiaramente me lo metto anche in sottofondo mentre leggo lo guardo in italiano perché mi sembra adattato molto bene io allora il manga chiaramente lo sto prendendo in italiano all'arrembeggio lo sto leggendo in inglese e ho notato qualche differenza rispetto non solo di adattamento proprio dal manga all'anime scelte narrative eccetera mostrare una cosa prima piuttosto che dopo queste cose qui ma anche proprio a livello di adattamento dei dialoghi poco in realtà mi è capitato con una barra due frasi che non so se sono state magari perché all'arrembeggio sto leggendo se non sbaglio la versione originale cioè la versione autentica inglese in lingua inglese americana sarà sicuro perché gli traduce tutto quanto il sistema medico decimale lo traduce in quello imperiale in piedi gli arde pollici quindi deve essere americano mi piace molto mi piace molto Messi Ronaldo Volcantonane Papele mi parlano apertamente Real Madrid e poi non so se lo sapete ma la divisa del Giappone ai mondiali del 2022 è stata stata creata in collaborazione con credo l'illustratore perché Bluelock ha uno scrittore e un illustratore e non saprei effettivamente immagino con l'illustratore si parla di grafica no uff mi ha riscatto pure da il rigore Marco Simone una com'è triplice fischio no triplice fischio ma è il primo tempo eh no oh no ma com'è finita la partita ma come vola il tempo quando ci si diverte no cazza rola avrei spinto di più pensavo invece tutto il secondo tempo il Valencia ha vinto la Coruna ha vinto la Roma ha perso cazza bubola e vabbè ragazzi ci sta pareggiare abbiamo comunque perso due soli punti ne avevamo guagnati tre siamo comunque a più undici la prossima giornata che sarà domenica 17 marzo ci vedrà a Parigi contro il Paris e per oggi però è tutto quindi fratelli e sorelle nell'amore vi ringrazio come sempre per essere con noi anche nel turno infrasettimanale di PES io sono Marco NG Filipponi alias Marco for press scrivetevi commentate mettete mi piace e condividete ma soprattutto vi do un comandamento solo cercate di non essere stronzi buonanotte e buonanotte a vanno per le raccolino loco vanno carajo andiamo lo 4 vanno 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 Alla lasz, loco, vamos!